L'arte di perdoneggiare i sogni e il sonno porta con sé innumerevoli benefici. Alcuni sono evidenti, ma i più potenti sono molto sottili e si radicano profondamente a chi ha imparato a farne tesoro. Quindi la cosa migliore che posso fare è far lasciare che siano loro direttamente a parlarne. Il primo grande beneficio che emerge da questo percorso è l'aumento della consapevolezza. Non solo nel sogno, ma anche nella vita di tutti i giorni. E chi pratica la meditazione ne sa qualcosa. Posso dirti di aver realizzato la coscienza che il sogno e il sonno sono molto più importanti di quello che valutiamo. Mi interessa perché penso che ha molto da darmi per quanto riguarda la mia crescita. Poi devo dire che questa storia dei sogni lucidi sicuramente mi ha aiutato anche nel lavoro che faccio sulla meditazione. Quindi grazie, 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 grazie. Stendere la presenza e il ricordo di sé anche al sonno è il traguardo di tecniche avanzate in uso da millenni nella tradizione buddista tibetana. Claudio riporta tutto questo all'interno di un percorso laico e comprensibile all'umano del XXI secolo. Gli effetti collaterali di questo percorso vanno oltre lo sviluppo personale. Entrano di forza anche nel percorso di sviluppo e crescita spirituale. Le comprensioni e gli insegnamenti che si possono avere durante i sogni, specialmente quelli lucidi, sono illuminanti quando poi si torna allo stato di media ordinaria. Claudio è veramente un profondo insegnante di meditazione. E queste consapevolezze sono la migliore estensione della meditazione a tanti momenti della vita quotidiana. Chi pratica meditazione saprà apprezzare questi benefici tra i più preziosi. La capacità di far lavorare il proprio inconscio nella direzione desiderata è una capacità impagabile che può avere tante applicazioni molto utili. C'è chi sfrutta i sogni per fare esperienze intense, come volare o fare sesso con chi desidera. E restituiscono a chi ha deficit motori la possibilità di tornare a correre e danzare, come racconta Antonio, che dice Per chi, come me, a causa di un incidente o altre ragioni ha limitazioni motorie, questo corso offre un'esperienza unica. Nei sogni ho riscoperto la libertà di correre, muovermi su un prato fiorito e vivere sensazioni che nella vita reale sono difficili da provare. È stato un dono incredibile. Anche se possiamo volare, divertirci in ogni modo, soddisfando capricci più fantasiosi, i sogni non sono solo momenti di evasione, ma possono essere strumenti potenti per la nostra crescita personale e spirituale. Io sottolineerei sia l'aspetto ludico di questo percorso che quello evolutivo. Nei sogni lucidi ci si può permettere cose impossibili nella vita ordinaria, come volare o respirare sott'acqua, creare il proprio mondo o incontrare chiunque desideri. Queste esperienze meravigliose sono la metafora della stessa cosa nella vita da svegli, tra virgolette. Cominciare a realizzarlo in prima persona per esperienza diretta è inevitabile e rivoluzionario. Fare questo percorso è così utile e divertente che sembra quasi impossibile che esista davvero. Un corso veramente molto valido, mi sono portato a casa un sacco di cose, di nozioni teoriche e di risvolti pratici a cui non pensavo di poter arrivare. I doni all'interno dei sogni sono veramente tantissimi, posso assicurare che per me è stato così. piccole rivelazioni, incontri con maestri di un certo calibro, incontri con parenti e amici cari che non ci sono più. Insomma, è un mondo tutto da scoprire, ognuno al suo ovviamente. Grazie Claudio. Ovviamente un aspetto abbastanza evidente che affascina tutti è il controllo sui propri sogni. Questo è abbastanza evidente, no? È bello desiderare una cosa del genere. Inizialmente non sapevo bene a cosa stavo andando incontro, ma intraprendere questo percorso di scoperta di me e del mio stato di sonno e la possibilità di gestire il sogno, di entrare, di prendere le redini dei sogni. È stato uno strumento potentissimo che grazie a Claudio che ci ha sempre seguito, grazie al lavoro di tutto il gruppo con cui è stato possibile sempre condividere le proprie esperienze, sono riuscito a portare quella padronanza acquisita nei sogni, acquisita a fatica, con tentativi e tentativi e tentativi. Sono riuscito a portarla nella realtà, nella dimensione ordinaria che noi chiamiamo sempre reale. Siamo pieni di paure represse che spostiamo nel profondo di noi stessi, nell'inconscio, giù. Siamo anche pieni di limiti che ci autoimponiamo e tutto ciò rischia di rovinare la nostra vita quotidiana. Ma con questo percorso le cose possono cambiare radicalmente. Ecco alcune testimonianze su come il sogno lucido sia diventato uno strumento di guarigione interiore. Questo corso è stato molto importante per me perché avere una maggiore consapevolezza del sacro spazio della notte mi ha aiutato a capire, grazie ai propri sogni, delle dinamiche che in realtà poi si palesavano durante il giorno. Avere strumenti maggiore a disposizione sia per migliorarci durante la vita quotidiana, un ulteriore modo per conoscere, per conoscersi, per vedere all'interno degli schemi mentali che ci portiamo dietro e provare comunque a modificarle, per evolverle. Ho realizzato che possiamo lavorare su noi stessi tanto di giorno quanto di notte. Anzi, i due percorsi si integrano l'uno con l'altro. Gli strumenti che ci vengono messi a disposizione tramite i sogni sono tantissimi e li possiamo utilizzare poi durante il nostro quotidiano, quindi durante la veglia e durante il lavoro su di noi che facciamo durante il giorno. Questo è uno strumento utilissimo anche poi di giorno perché imparandolo a fare di notte con i sogni lucidi, anche di giorno possiamo imparare poi a dirigere l'andamento della nostra vita e del nostro quotidiano, quindi a diventare protagonisti noi, consciamente, della nostra esperienza quotidiana. E poi ci sono anche altri piccoli benefici, talvolta anche inaspettati. Uno di questi è migliorare la qualità del sonno. Alcuni partecipanti hanno in effetti detto e testimoniato come il loro sonno sia migliorato grazie a questo percorso, che è esattamente il contrario di quello che molti, non conoscendo il percorso, temono possa invece accadere con un percorso sulla notte e sui sogni. Lo studio del sogno consapevole inaspettatamente mi ha dato un sonno migliore, proprio che non stavo cercando quello, insomma, quando mi sono iscritta al sogno consapevole. E poi, boh, quella è stata una cosa che ho notato subito, mi ha dato il senso giusto della notte. Si tende a pensare che certi successi si imparano solo attraverso le informazioni, ma questo percorso è fatto di realizzazioni profonde, personali, che avvengono anche attraverso il mio supporto quotidiano e quello del gruppo di partecipanti, ed è un elemento che viene effettivamente molto apprezzato. Un altro strumento molto interessante che Claudio ha condotto magnificamente è la chat su WhatsApp, che ha permesso a tutti noi di confrontarci sia nelle nostre piccole vittorie, sia che nelle nostre difficoltà. credo che per chi è interessato ad un percorso di autoconsapevolezza e di conoscenza di sé sia fondamentale iniziare ad accedere anche a questo spazio sacro, consigliato o straconsigliato a tutti coloro che sono su questo percorso. Ancora grazie Claudio per tutti i doni meravigliosi che ho ricevuto grazie al tuo corso. Grazie a Claudio ovviamente, grazie a tutti i componenti del gruppo, sono stati, quelle condivisioni sono state veramente utili. Io vi invito a sperimentare, a sperimentare questo corso. Non sarete mai soli, a parte per la disponibilità costante di Claudio, ma sarete in una vera e propria classe, quindi ci saranno altre persone come voi con le quali confrontarvi. E' veramente importante, è un'esperienza molto bella, perché ci si sente incoraggiati, ci si sente accompagnati, non ci si sente solo nei propri, fra virgolette, fallimenti e si può gioire insieme agli altri dei propri risultati. Il corso è strutturato poi molto bene, ci sono delle lezioni che si possono vedere, rivedere, ascoltare e riascoltare. E poi ci sono soprattutto, la cosa bellissima, come appunto vi ho detto, è il confronto con gli altri, quindi una classe. Spero che queste testimonianze possano aver contribuito più, delle mie parole, a capire come questo percorso sia trasformativo nel profondo e che per capirlo bisogna effettivamente scoprirlo da se stessi. Questo se si è disposti a mettersi in gioco. L'invito è per tutte quelle persone che stanno facendo un percorso, un qualsiasi percorso di crescita personale, un percorso interiore, un percorso spirituale, di fare anche questo percorso, perché può sicuramente integrare quello che già state facendo. È un corso bellissimo che purtroppo a me è finito, avrei voluto che durasse per sempre. Io mi sentirei di consigliare un corso del genere con Claudio a chiunque sia interessato a conoscere meglio se stesse e ad aumentare la propria consapevolezza.